Sti cazzo di aggiornamenti, porca troia. Sti cazzo di aggiornamenti, porca troia. Call of Duty Ghost ragazzi, veramente. No, no, smettila, ok. Allora, purtroppo io ragazzi sono stato a fermo una settimana, più o meno, mi ero preparato già delle puntate apposta per questa settimana, mi sono rimasto un pochettino a fermo per potermi leggere i libri ragazzi. Io ho finiti, ora ripartiamo subito un pochettino con Call of Duty Ghost, ve l'ho promesso per la domenica giustamente, vi faccio la mia domenica sclerata, la mia sclerata domenicale scusate. Speriamo che tutto vada bene, sono un po' arrugginito ragazzi, ve l'ho detto, sono una settimana che non ci gioco e purtroppo proprio per comprare di questa settimana che non ci gioco, io ho dovuto fare 50.000 aggiornamenti perché non sono stato molto attivo. Comunque sia ragazzi, andiamo su Xbox Live, punti doppi, Extinction, vabbè a me ragazzi non importa tantissimo di Extinction visto che non lo gioco tantissimo. Pacchetto personalizzazione, ok dov'è il pacchetto festività che me lo prendo? Così ci prendiamo anche il pacchetto ragazzi così possiamo dipingere la nostra arma, bellino. No aspetta che cazzo è quella cosa? Entra nello spirito natalizio ragazzi, vabbè vi acquisto questa cazzo acquisto... Vabbè dopo. Ragazzi acquisto questo pacchetto festività, lo confermiamo, vi taglio questo pezzettino e poi andiamo direttamente nuovamente al gioco. Ok ragazzi siamo pronti, crea soldato, cosa c'è di crea soldato? Basta da... Ok festività, sì. Ok vediamo se abbiamo già sbloccato questa storia, vediamo un attimo, prepariamoci lo nei badge, il nostro classico. Uh festività ragazzi, un vecchio festività, non l'ho già ottenuto. Proviamo di nuovo? Sì. Vediamo se me lo fa prendere perché dovrei averlo preso a questo punto, se non mi fa nessun altro inghippo. Eh, ok, perfetto, ah ce l'ho già. Quindi andiamo un attimo su cork, andiamo su ony badge, ci dovrebbe essere... Ovviamente è bloccato, ma ragazzi non me ne sbatte un cazzo, ne partiamo perché mi sono rotto il cazzo. Eh, è solito a serie ragazzi, vediamo se riusciamo a vincere, quindi andiamo su trova partita, standard, tutti contro tutti ragazzi per divertirci un po', e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su freight, partiamo subito con ony badge, ok minchia ragazzi, da conto a cazzo, da conto a cazzo non ci gioco ragazzi, veramente. È un po' di... Uh, oh no! Mi son cagato, vai. Grande, ce l'ho dietro, via, bomba, grande, ce l'ho dietro, sentito? Siete i passi ragazzi, è quello lì, dall'altra parte? Ma grande. Dove cazzo sei? Ah! Ma guardalo! Sul tetto! Ma dai! Oh, vai, vai. Oh Cristo! No! Ma grande! No, ma dai, 4-22, ma porca troia, ma no! Ma perché mi mettono già nel palito, è già iniziata? Tu metti qui su, lo stronzo. Guardalo! Eh, smette di camperare! Oh, bella coltellata ragazzi, bellissima. Grande. Grandissimi. Oh! Da quanto a cazzo non faccio volare la scelta. Ma guardati, ma tu! Ma tu sei fermo! Ma sei anche il primo, fai cagare! Ma cazzo! Ma questo è modo di giocare! È qui. Muori qua! Già distrutto il setto. Ma perché ricompari lì? Perché un avversario ricompare vicino a me? Wow, wow. Se questo è un posto dove comparire, io vorrei capire. Ma guarda! Oh, ancora lì! Ma cazzo! Ma cambia postazione! Porca troia! Quanto sei camper! Guarda, ti manca solo uscire qui, guà. Figlio di puttana! Guardati! Ancora qui! Fottuto stronzo! Sei una fottuta muffa! Cazzo! Delle muffete! Eh, no, muore! Grande! Dove? Perché? Ma dai! Ma che problemi hai? Ma grande, una! 12-5, dai ragazzi! A meno ci diamo quel coglione del primo! Così li facciamo accumulare i morti! Ma dove cazzo è? Ovviamente ecco, pagiamo da te! Ma grande, ma dove stai andando? Ma dove stai andando? Cioè, 13-5 ragazzi, però non va bene! Che cazzo? Ma perché? Perché? Io manco una cazzo di settimana, cinque giorni? E subito mi ritrovo gente del genere! Gente che gioca con le bombezze! Cazzo! Con i mini ciccioli! Con i mini ciccioli messi in un punto! Aspettando gli altri dal lato ai tetti! Ma dai, ma porca puttana! Ma come cazzo ho giocato? Dai, imparate a giocare! Comunque sono anche un po' arrugginito ragazzi! Sono riuscito a recuperare subito la partita per un breve pezzo! Però cerchiamo di rifarci in una seconda! Andiamo su Flooded! Ragazzi, io direi subito di partire immediatamente! Eccoci ragazzi! Siamo su Flooded! Vediamo di usare l'oniverge e di spaccare un pochettino il culo! Allora ragazzi, siamo in 4, 5, 6, dai! Prima eravamo solo in 4 e siamo in 6, dai! Quindi stiamo già andando bene! Quindi ragazzi, piazziamo subito una bomba lì! Ce ne andiamo via dall'altra parte! Ma ho paura che ci sia già lì il tipo water! No, strano! Mori con pare water! No, non ce ne sono stranissimo! Cosa molto strana perché normalmente gli avversai... I compagni... Cioè gli avversari li compagliano vicino a voi! Perché? Bam! Uh! Grande! Sarà qui? Sarà qui? Sarà qui, zio? Uop! Ole! Grande, 3-0 il cura, grande! Il cura non si arruginisce! Si arruginisce all'inizio ma poi... Riprende subito la mano del grande esperto, tiratore! Aspetta il macchinario, non sento... Nient'altro, andiamo qui! Scivolata, tattica, versione... Ole! Versione di Riccardo Montolivo, grande! Ah, eeeh! Ma che cazzo di cosa... Perché approvvigionamenti? Ma guarda! Grande! Uh! Vai! C'è qualcuno qui ragazzi? C'è nessuno? Silenzio totale ragazzi! Giriamo i tacchi, giriamo i tacchi! Via! Bomba! Zitti, zitti, zitti! Saranno qui! Oh guardalo! Guardalo! Che cazzo? Era sdraiato! Mi stavo aspettando! Ah, non importa! Una morte! 6-1 ragazzi! Siamo riusciti almeno a fare 6-1! Eeeh... Se ovviamente non sei ancora lì, pezzo di merda! Spero per te che tu non sia ancora lì! No! Ok, è qui! Sì, è qui lo stonzo! Guarda! Che merdoso! Che merdoso! Ma dai! Ma che cazzo sei? Un corridore! Ah, mi sono cagato! Era una ruba di fumo! Ok! Qualcuno è morto? E qualcuno... Bam! Grande! C'è una Nacklemore che l'ho visto! C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che si è buttato? Eh no! Non ti ho visto, cazzo! Non ti ho visto! Bombetta! Vai! No! C'è nessuno? Ma dai! Ma sei un camper, cazzo! Ma fai schifo! Ma porca troia! Ma voi dovete essere eliminati! Cazzo! Giocate solo in questo modo del cazzo! Ma... Ma come vi divertite! Ma come vi divertite! Merda schifose! Aspettandoci, cazzo! Negli angoli più infidi! Merda! Cioè... Ma come cazzo! Ma che cazzo di arma di merda hai! Ma quella specie di P20, quello che cazzo è! P90... Però vabbè ragazzi, io non so più che hai a dire! Ma vattene a fare in culo, va! Ma muori grande! 11 ragazzi! 11,6! Che schifo! Mi hanno sterminato! Mi hanno rovinato uccisioni in mordi! Devo riprendermi molto da Call of Duty nuovamente! Devo recuperare... Devo recuperare fin troppo ragazzi! E' una cosa... Orribile! Beh, non c'è nessuno! Oh! Oh! Mi son cagato! Mi son cagato! Cazzo! Bam! Niente! Sotto nell'acqua c'è qualcuno! Mi son veramente sbiancato prima ragazzi! Allora... I soliti camper sono sempre nei soliti punti! Stranamente ragazzi! Perché ovviamente giocano solo in questo modo ormai ragazzi! Io veramente rimango allibito dal fatto che... Noi... Io anzi! Prima di tutto io! Giochi! Mi diverta! Poi... Tu mi spari due colpi e mi incappetti! Vabbè! Come non detto! Come non... BASTA! Ma che cazzo hai laggato! Minchia! Due coglioni sti lag di merda! Mi ha fatto una laggata strana! Ma dai! Oh! Che cazzo! Ma tu da dove ne sei uscito? Ma tu da dove ne sei uscito? C'è uno! C'è uno qui in zona! C'è uno qui sotto! Anzi! C'è più nessuno! Vabbè! 13-9! Ragazzo! Primo! Con... Basta! Sti cazzo di satcom di merda! Ma muori grande! C'è qualcuno vicino a me! C'è qualcuno vicino a me! Ma lo sento! Ma mi girano e mi inchiudono! Uh! Ma dai! Ma porca troia! Ma quanto cazzo faccio cagare in questo momento? Cioè sono peggiorato! Ma dai! Ha rotto i coglioni di camperare! Tu merda schifosa! Ma che cazzo di modo di giocare? Brutto coglione! C'è qualcuno qui! Cazzo! Dai! Ma vi fate prendere spaventi oggi! Oggi siete in vera di giocare! Di essere giocherelloni! Cazzo! Nascondino! Resistente come pochi! Allora! 16-11 ragazzi! Che schifo! Che punteggio di merda! Non è un punteggio da curre! Il curre si rifà ragazzi! Sapete che questa è la puntata domenicale! Mi sono cagato! Dove devo... Datemi il tempo di recuperare un attimo la mia forma! Visto che adesso ho finito di leggere lì! Finalmente! Posso! Oh! Shot B! Ci non so neanche come cazzo ho fatto! Eh! Shot B! Uh! Ma dai! Cristo! Non ce l'ho fatta! Proviamo qui! Ma... Ma stava durando veramente tanto sta cazzo di partita! Che strano! Ma guardati! Ma che... Ma... Ma mi spari un col! Ma cazzo! Ma guarda c'è qualcuno! Guardate! Qualcuno ci deve essere! No! Strano ma vero! Non c'è nessuno! Grande! Questa festa! E cosa stai facendo! Porca puttana! Ti do una cazzo di turba a questo punto! Stavi correndo come pochi al mondo! Ma dai! Questa coltellata ormai fasulla! Prima la fasulla di più! Però adesso... Adesso fa anche cagare! Cazzo! Bombetta! Dov'è il cane? Dov'è il cane? Dov'è il cane? Dov'è il cane? Vieni! E' questo cazzo di Satcom! Porca troia! Questi compaiono da nulla! Spettri sono! Spettri! Porca puttana! Dai! Andiamo qui! Eeeh! Minchia! Ma quanto cazzo corri veloce? Oh! Grande! Testa di minchia! Ma guarda te! Cazzo! Un vero Ciractor! Dietro! Niente! Tranquillo! Non morire! Tu sei di ferro! Ma grande! Ma grande! 22! Io non so dove cazzo... Io non so dove cazzo sia sto coglione! Ma grande! Ma dove c... Ma dove sei? Eh ma dai! Secondo me sta camperando tipo... Perché è impossibile! Non lo trovo! Uh! Ma grande! Eh no! Bastardo! Ma... Ma questi escono già sparando! Ma cosa sta succedendo? C'è le mie due sconfite oggi! Vabbè domenica ragazzi! Eh muori grande! Grande! Olè! Grande! Queste ve le meritate tutte di morti brutti stronzi! Ma compaiono dietro di me ragazzi! Perché ovviamente... Gli altri compaiono sempre dietro di me! Sono tutte zanzare! Ancora! Olè! Grande! Grande! Il nemico localizzato! Oh! Ma no! Porca puttana! Ma la coltellata è finta! Ma dai! Hai rotto i coglioni sti statcom di merda! Ma cazzo tu sei camperato come pochi! Oh! Un milione di statcom cazzo! Oh! Vento! Dai! Il cura vuole vincere! Il cura vuole vincere! Deve vincere! A tutti i costi! Sì! 29! 29! Una ragazzi! Una! Ce la dobbiamo fare! Ce la dobbiamo fare qui! Ragazzi è qui! Ce la dobbiamo fare! Il cura vuole! Il cura vuole la partita! E il cura vuole la partita! E la vince cazzo! E la vince! 30-18! 30-18 ragazzi! Grande! Ma grande! Ma sì! Un anno per finire la partita! Cazzo! Porca troia! Allora ragazzi! Spero che la partita vi sia piaciuta! Ora stacchiamo perché veramente lo sclero ha durato fin troppo! Quindi ragazzi! Se il video vi è piaciuto iscrivetevi, commentate, mettetevi in piace! E noi ci rivediamo ovviamente... Ci vediamo sicuramente martedì! Quindi da cura nuovamente è tutto! Ci vediamo alla prossima! Ciao raga!